Bambini, sapete chi è venuto a trovarmi? Un grande personaggio! Topo... Topo Gisio! Toppino! Toppino, per fortuna ci sei tornato, perché sai che tutti i bimbi mi scrivevano? Ma dove è andato Topo Gisio? Dove è andato? Dove sei stato? Io sono stato nelle Americhe. Accidenti! Allora tu sei un internazionale te, un artista grande! Ma cosa mi dici mai? Sì, però adesso non andai più via perché i bimbi piangono, eh! No, no, io rimango qui adesso, facciamo tanti bei programmini per i bambini! Ah, hai sentito? Sì, sì!